Il GUP del Tribunale di Bari, Rosa Anna De Palo, ha condannato alla pena di 17 anni e 4 mesi di reclusione Tommaso e Nicola Appio, padre e figlio entrambi di Trigiano, imputati per l'omicidio volontario del 34enne Giovanni Sblendorio, ucciso per errore per uno scambio di persona nel maggio del 2015. Nel processo era costituita parte civile la moglie della vittima che ha ottenuto un risarcimento danni anche per i due figli minorenni con provvisionale immediatamente esecutivo di 150.000 euro. Sblendorio fu freddato in pieno giorno da un colpo di pistola alla nuca mentre passeggiava con un 44enne che secondo la procura di Bari era il vero obiettivo dei sicari per vecchi di sapori legati a fatti familiari. I due presunti assassini poi arrestati dai carabinieri nell'agosto del 2015 furono riconosciuti grazie ai video di alcune telecamere cittadine che li avevano immortalati mentre a bordo di una smart si avvicinavano al luogo dell'agguato. Il padre avrebbe aspettato alla guida mentre il figlio armato di pistola si sarebbe recato a piedi ad eseguire la condanna a morte, sbagliando però obiettivo.